Luca Erba è stato promotore della mozione in Consiglio Comunale per la battaglia in favore dell'ospedale Felettino. Il tema della sanità, lo abbiamo detto anche in questi giorni, è molto sentito, preoccupa in un certo senso la popolazione. Stamani e domani mattina volantinaggio davanti all'ospedale Sant'Andrea della Spezia, perché? Abbiamo voluto fare questo volantinaggio per riassumere quello che sarà il cronoprogramma da qui al 2019, che è la data in cui ci sarà il nuovo ospedale. A breve verrà inaugurata radioterapia, a dicembre verrà svuotato il Felettino, a gennaio si inizierà con la demolizione e nel 2019 verrà costruito un nuovo ospedale che sarà pronto per quella data. Siamo fiduciosi anche perché c'è una ditta molto seria che sta seguendo i lavori del nuovo ospedale, su questo confidiamo sul fatto che si arrivi a buon fine, rispettando i tempi e segnando un punto importante su un servizio così delicato che riguarda la salute dei cittadini. Il Partito Democratico tiene alta l'attenzione sulla questione, allo stesso tempo c'è una polemica in corso, anche diretta verso la Regione Liguria e in modo particolare l'amministrazione Toti. Certo, ci sono infatti due livelli di discussione. Mentre a livello territoriale noi rivendichiamo con orgoglio il fatto che il nuovo ospedale partirà, i lavori partiranno, nel 2019 sarà pronto, su un altro livello di discussione chiediamo che la Regione Liguria rispetti il lavoro di accorpamento a livello territoriale con un accordo con l'AS del Tiguglio e con l'AS di Massa per mantenere i livelli del decreto Balduzzi sui bacini d'utenza in grado di garantire un DER di secondo livello integrato nel nostro ospedale in grado di garantire un servizio più qualificato per i cittadini. Sono due livelli di discussione. Da una parte vogliamo rivendicare che ci sia il nuovo ospedale e le strutture siano pronte nel 2019. Contemporaneamente facciamo pressione sulla Regione Liguria, la Giunta Toti e l'assessore viale alla sanità affinché si rispettino i patti territoriali per garantire un servizio su un DER di secondo livello. Questo è un lavoro sul quale non molleremo di mezzo centimetro. Quindi vi troveremo qui anche domani mattina, dalle 10.30? Dalle 10.30 saremo qui anche domani mattina e continueremo un percorso di sensibilizzazione, un lavoro politico d'opposizione nei confronti della Giunta Toti che si deve assumere le proprie responsabilità. Il nuovo ospedale nel 2019 è pronto, vogliamo un DER di secondo livello. Quelli erano i patti, ora non si può tornare indietro.